L'approvazione della finanziaria regionale e il commento di Roberto Lagalla, assessore regionale alla pubblica istruzione. Grazie alle leggi di sistema rispettivamente sull'istruzione e sulla formazione professionale che il governo Musmeci aveva proposto e varato nel corso del 2019, quest'anno ci siamo sostanzialmente limitati a proporre delle importanti norme di semplificazione, sia per quanto riguarda il funzionamento della formazione professionale, concedendo agli enti la possibilità di anticipazioni sul dovuto da parte regionale, ma anche facilitando ed esternalizzando alcune fasi dei controlli, e ulteriormente sull'istruzione abbiamo istituito un fondo di rotazione sull'edilizia scolastica che favorisce i comuni ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione più tempestiva delle opere finanziate dalla Regione. L'estensione delle risorse regionali a favore delle scuole di specializzazione di area medica, che quest'anno sono state estese anche alle scuole di specializzazione di area sanitaria, così includendo, e vorrei dire finalmente, anche i biologi e i laureati non medici che operano nella sanità all'interno di rimborsi mensili per l'attività formativa svolta.